Non vi spaventate, aspetta devo un attimo, aiuto, devo chiudere questo, allora dicevo collaborazione, un attimo perché apro la porta così fa più figo, aspetta, a riechime, collaborazione con l'azienda Agronauti, vi metto giù il sito di questa azienda con cui ho collaborato e mi ha fatto ordinare gratuitamente dei tester, delle provette, queste qui, e guardate un attimo il bigliettino, tutte queste, cioè sono una valanga, e qui nel dépliant che mi hanno mandato, molto professional, con dentro anche la letterina, c'è scritto tutto, perché siccome è un'azienda inglese, c'è scritto tutto in inglese, non capisco nemmazza, qui dietro c'è scritto cosa sono quei tester praticamente, Praticamente ogni nome dei prodotti ha un nome, ad esempio Ariel, è anti-pollution day cream, cioè anti-pollution, anti-polline, non so cosa sia, crema da crema da giorno, e si chiama Ariel, poi Alena che è la crema anti-age, Talia che è struccante, Gea, poi c'è Jason, ha tutti i nomi, guardate che figata, vedete i nomi, i nomi, ok, e mi hanno fatto scegliere gratuitamente un prodotto, e io ho scelto, come potrete vedere, sti cazzi, la sporca, cioè, in indietro veneto si chiama paltan, cioè fango, quindi mi sono piena di paltan, in questo momento, in termenuso, che mi sono spalmata un po' con le mani, un po' con il pennello, la cazzo mi cano, proprio, cioè, allora, in questo periodo mi sono, perché non ti stendi puttana, ok, mi sono venuti fuori un sacco di brufoli, ho detto, invece della cremina, di questo, di quello, provo la maschera della polvere del Marocco, e vediamo se, se funzia, e funzia, funzia, oddio, funzia se la metto ogni giorno, comunque vedo già da una settimana, a sto parte, che ogni giorno me la faccio, vedo i results, i risultati, cioè, io ho la pelle mista, qui sono piena di brufoli nella fronte, qui ho la pelle grassa, qui secca, quindi me la sta seccando ancora di più, ho messo su Instagram, se volete seguirmi su Instagram, sono la, trattino basso, Cristina, seguitemi, seguitemi, vedete, tra l'altro, trattino basso, e ho messo questa foto, che sarebbe, appunto, il prodotto che mi hanno mandato, polvere, ah, dimenticavo, è un'azienda bio, vegan, inglese, vi leggo, che ho scritto la descrizione del prodotto che ho scelto nella foto di Instagram, allora, argilla rossa del Marocco, maschera purificante viso-cappelli, si può mettere anche nei capelli per tutta la lunghezza, perché ha i capelli grassi, è una maschera idratante e purificante per viso e capelli, assorbe e rimuove le impurità superficiali della cute, seboroica, sebo-grassa, insomma, oleosa, unca, nutriente per pelli grassi e per tutti i tipi di capelli, ah, per tutti i tipi di capelli, ah, ok, un tempo riservata alla, qua c'è la storia, un tempo riservata alla famiglia reale egizia come detergente e balsamo per pelli e capelli, l'argilla rossa del Marocco è considerata una delle più rare e pure sulla terra, chiamata anche rassol, che in arabo significa ciò che pulisce, è ricca di magnesio, ferro, calcio, potassio, silice e dolomite, e dolomite, utili a migliorare la texture della pelle, proprietà speciali, dolomite, silice, ferro e ossidi minerali, idratanti e purificanti, il formato, flacone dispenser da 80 grammi, rituale, 2,8 ozetta, rituale urbano, mescolare argilla rossa del Marocco con l'acqua, fino a renderla una pasta spalmabile, da stendere con le dita, ah, con le dita, metto col pennello, vabbè, su volto e o su tutta la lunghezza dei capelli, applicabile anche sul collo, ma io l'ho messa tipo sotto lì, attendere 10-15 minuti e rilassandosi, se possibile da sdraiarti, cioè totale relax, invece sono qui a fredire, quando la maschera è secca, risciacquare con acqua calda o tiepida, non ghiacciata, può essere mescolata, a taglia, detergente viso, Jason, ah, vedete che mettono i nomi, Jason, detergente corpo, si deve essere dei shampoo, enfatizzandone le qualità detergenti, l'argilla rossa del Marocco è molto versatile e quindi non esitate, siate creativi nel mescolarla a piacimento, quindi potete mescolarla a vostro piacimento con i vostri prodotti già che avete a casa, oppure per enfatizzare meglio il risultato, le qualità di questo prodotto, lo mescolate appunto con i prodotti che vendono loro, allora, detox più detersione, il gelo rosso del Marocco, 15 minuti, ah, puoi mettere talia del viso, e siamo per detersione profonda, e vi metto giù nell'info box il sito di agronauti, e sono davvero contenta perché sono stati molto competenti, e seri soprattutto, perché mi hanno, un attimo, mi hanno mandato i prodotti, intanto io sciacquo il pennello, faccio il disastro, cioè, vabbè, merda, è la merda, totale, ok, perfetto, e vi consiglio, a voi youtuber, di provare a chiedere una collaborazione, perché mi hanno mandato proprio un loro prodotto gratis, cioè, finora non mi è mai successo, mi hanno mandato solo provette, ma questa azienda mi ha inviato anche il prodottino, a mia scelta. Bene, io adesso mi sciacquo, non vi mostro le mie condizioni di come sarò dopo, cioè, mi sta attirando tutto, sembro Silvio Berlusconi con il lifting, mi consenta, spengo il video, grazie agronauti per la collaborazione, e ci vediamo al prossimo video, ciao!